Salve a tutti e buon venerdì! A Beautiful stanno accadendo davvero tantissime cose. La nostra Brooke, infatti, è stata tradita dal suo Ridge. Intanto, Flo cerca di riprendersi Wyatt. E dunque scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate. Ridge, dopo essersi preso una bella sbronza nel pub Bikini, che nome particolare, si risveglia in un letto non suo. Non capisce che cosa sia successo fino a quando non si guarda intorno e vede che accanto a lui c'è Shauna. La donna, che è riuscita ad accalappiarlo, gli serve la colazione e gli fa una promessa. Non dirà a nessuno di aver passato una notte di fuoco con lui. Wyatt si è ritrovato faccia a faccia con Flo, la quale gli ha chiesto di perdonarla e quindi di tornare ad essere una coppia come un tempo. Lui però non è tanto convinto, anche perché nella ragazza ha perso totalmente la fiducia, elemento molto importante in una relazione. E poi, ora c'è anche Sally. Katie è arrabbiata a morte con Flo. Per questo va da lei e le chiede di partire e sparire per sempre da Los Angeles. Dopo quello che ha fatto è meglio che vada via. La sorella di Brooke poi va da Wyatt e insieme a Bill lo implora di non tornare con la sua ex fidanzata. La donna, poco dopo, ha un piccolo malore, al quale però dà poco peso. La verità è che Wyatt è ancora innamorato di Flo, per questo motivo potrebbe essere predisposto a perdonarla. Già vi dico che i due, col tempo, torneranno a far coppia anche perché, a metterci lo zampino, saranno le loro madri, Shauna e Queen. Ciò farà impazzire letteralmente la povera Spectra. Ridge torna a casa, pur essendo colpevole di un tradimento, fa finta di niente. Anzi, si riconcilia con Brooke, che ovviamente non immagina neppure quello che suo marito ha combinato nella notte ormai passata. La Logan, ingenuamente, chiede a Ridge di star lontano da Shauna. Intanto proprio Shauna non mantiene la promessa fatta a Ridge, o almeno in parte. La donna, che non sta più nella pelle perché ha centrato quello che era il suo obiettivo, racconta a sua figlia Flo della notte di passione che ha condiviso con il Forrester. Dunque, tutto rischia di venire a galla. Bene, queste erano le anticipazioni delle puntate, che andranno in onda da lunedì 23 fino a sabato 28 novembre. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento lunedì. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana.